Il Ministro di Turismo, il Otvaro di Berra, comparte con noi che il suo desiderio chiede qualche parte del legislativo per frenare il fenomeno di all inclusive, però non sta a conto che il sostegno di Ture parla nel settore del turismo. Lamentabalmente è stata una posizione per sostenere per fare il fenomeno di all inclusive in Anaruba, che è in linea recta, che è il MOU che non sta firmando dentro di poco per lo che si tratta di RAPAR, aumentare il saco, e non si non si manda sia bisogno di evitare in tutto il caso per il hotel non è un nuovo bim, che è 100% dedicato all inclusive e anche il MOU che si può prescrivere, che è in grado, che è in parte di inventario di un hotel per l'argo, per l'argo vendere come un all inclusive, e non si tratta di un documento legale per dentro di poco, per la prossima 4-6 settimane, il saco di potere una messa per la prossima e il Parlamento con lei.